Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, continua a far parlare di sé. Dopo essere stato al centro dell'attenzione per i suoi scoop, le vicende giudiziarie e i gossip lanciati dal suo sito Dillinger News, si appresta a diventare padre per la seconda volta. La sua compagna Sara Barbieri è in attesa e la nascita è prevista per il 25 dicembre. La vita di Corona è stata intensa, con relazioni con donne famose come Nina Morik, Belen Rodriguez e Asia Argento. Tra queste storie d'amore spicca quella con Lele Mora, che potrebbe essere stata una delle cause della separazione tra Corona e Morik. Mora aveva confermato di fronte agli inquirenti le avanze del paparazzo. Corona ha smentito le voci su una presunta proposta di matrimonio a Giacomo Urtis, ma ha ammesso di aver affrontato due aborti spontanei con Morik e Rodriguez. Inoltre sono emerse presunte relazioni con Asia Argento, Silvia Provvedi e Barbara Guerra, tra le altre. Recentemente si era parlato di un possibile matrimonio tra Corona e Urtis, ma il fotografo ha smentito la notizia. Ha anche dichiarato di non aver avuto esperienze omosessuali, ma ha lasciato intendere che potrebbe farlo in futuro. In conclusione, Fabrizio Corona continua a far parlare di sé con la sua vita movimentata e le sue relazioni con donne famose. La sua attesa paternità e le voci su presunte proposte di matrimonio aggiungono ulteriore.